Oggi tantissimi gruppi copiano te e i tuoi Roxy Music. Cosa provi quando vedi tutti che lo fanno? Non è male che sia spenta la sirena. Non lo so, si verifica già da tanto tempo che non ci faccio più caso. Ma non ti senti derubato? Ma cerco di non pensarci, in quanto nessuno può essere me stesso e pensare o sentirsi come me. Prendono solo gli aspetti superficiali, quindi non penso si tratti di un furto della mia essenza. A volte sento uno che canta come me o indossa abiti simili ai miei, ma non lo ritengo importante perché non possono rubare il mio spirito. E' strano per te aprirti davanti a una telecamera. Sì, non mi piacciono molto le telecamere. Ma perché è una telecamera o perché al di là delle telecamere ci sono milioni di persone? Perché non mi piace la mia immagine. Scusa? È vero. No Brian, tu stai scherzando. Tutti mi dicono che tu sei fantastico, che il tuo stile è eccezionale e tu mi dici che non ti piaci. Vuoi chiederlo ai miei amici? A volte sì. Ma che parte di te non ti piace? Hai degli occhi meravigliosi. Sì, mi piacciono abbastanza le mani, le mie mani e i miei occhi. Dovresti riprendermi così. E non ti piace la faccia? No, non molto. Ti prego, lasciamo perdere, cambiamo argomento. Quindi mi stai dicendo che tutta la tua ricerca di stile è per fare sì che la gente distolga l'attenzione dal tuo viso e la rivolga su tutti i tuoi vestiti? Penso di sì. Lo confesso. Ma ti posso assicurare che tutti, specialmente le donne, amano il tuo viso. Grazie, è molto rassicurante. Allora, ti sei divertito al galà ieri sera? Cosa? Ti è piaciuto il galà? Non puoi cambiare quello che sei. Per esempio, mi piace l'immagine di Keith Richard, che è molto diversa dalla mia. Ma non credo che questa immagine sia adatti a me. Fin dall'inizio mi sono reso conto che mi sentivo più a mio agio e, in un certo senso, più anonimo, vestendo completi maschili. Gli stessi che oggi molti complessi indossano sul palco. Molti gruppi giovani d'avanguardia oggi vestono con completi da uomini d'affari. Ma allora facevano sensazione e ridevano anche del fatto che avessi i capelli così corti. Ma'è un'ersterzione? Ma è un'ersterzione? Grazie a tutti.